buonasera a tutti siamo siamo molto contenti di essere al congresso siso in roma una presenza che per noi è molto importante perché ci dà l'opportunità di rincontrare medici oculisti che incontriamo quotidianamente sul territorio con il nostro team di medical advisor o durante le attività di congressi riteniamo davvero importante mantenere un dialogo proficuo costruttivo informativo con la classe medica in questo momento siamo particolarmente concentrati su un tema che ci sta a cuore e che sta diventando di rilevanza mondiale ovviamente anche per il nostro paese anche per l'italia ed è il tema del controllo della progressione miopica per questo abbiamo portato a siso delle nuove evidenze scientifiche sullo studio clinico legato alla tecnologia HALT alla nostra tecnologia HALT lente stellest per il controllo della progressione miopica evidenze cliniche che ci danno grande soddisfazione perché continuano a dimostrare l'efficacia di questa tecnologia nel controllare la progressione della miopia nei giovani pazienti continuiamo quindi a raccogliere evidenze a sviluppare materiali a supporto dell'informazione alla classe medica questo aspetto per noi è assolutamente centrale di centrale importanza con la collaborazione di IC abbiamo organizzato due attività specifiche un simposio dedicato appunto alla miopia per portare anche queste evidenze dello studio clinico a tre anni e abbiamo partecipato al simposio sulla presbiopia ancora una volta a testimonianza del fatto che siamo profondamente convinti dell'importanza di condividere un'informazione corretta e puntuale sul mondo delle lenti oftalmiche per occhiali anche con la classe medica grazie a tutti